musica 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 bella metafoni sono Bryce e se ho tenato a un nuovo video e oggi vi porto l'introducing di JTF JTF birax inoltre è un gameplay veramente assurdo si tratta di una DNA combinata in tutti contro tutti e un record credo nazionale se non sbaglio quindi è davvero molto bello da vedere inoltre ci sarà lo schermo diviso inoltre non parlo più perché sto davvero esagerando quindi lascio la parola a Rises che vi esporrà un po' quello che fa durante la tua vita vai bella a tutti ragazzi qua è JTF Rises che vi parla e oggi vi porto alla mia introducing nella vita reale mi chiamo Gabriel Dignani come sport pratico basket esco con gli amici come hobby gioco alla play il gameplay che state vedendo è una combinata in TCT effettuata da me e birax in cosa consiste una combinata è di fare tutto duro una DNA bomba senza ucciderci a vicenda nella stessa partita diciamo che principalmente abbiamo fatto questa introducing doppia perché a me sembrava un'idea abbastanza carina a farla soprattutto perché sono abbastanza timido che effettivamente se la portavo solo io veniva veramente un vero schifo perché parlavo pochissimo e o Price oppure chiunque commentava la mia introducing doveva parlare praticamente solo lui invece birax che è un pochino che ha un pochino più di dimestichezza nei commentari mi dispiace se mi imbroglierò un pochino in qualche volta e niente passo la parola a birax bella a tutti ragazzi qui è gtf birax oggi come ha detto RISIT vi portiamo una doppia introducing allora mi presento io mi chiamo Antonio vivo in una città chiamata battipaia in provincia di Salerno forse molti di voi la conosceranno perché questa città è riconosciuta diciamo da in tutto il sud Italia perché diciamo si fa la mozzarella più buona forse non in Italia ma anche al mondo sicuramente l'avrete sentita nominare nel video no nel video nel film made in sud e anche made in nord vabbè a parte le stronzate e diciamo che nella mia vita non pratico per ora nessuno sport perché prima giocavo a calcio però per diciamo problemi mi cagavo un pochettino il cazzo e non diciamo ho smesso di fare calcio adesso diciamo sto un pochettino più ispirando diciamo ad andare in palestra soltanto per tenermi in forma e niente allora frequento il secondo secondo superiore dell'istituto del ragioneria e per chi non sapesse che cosa è vabbè penso che tutti quanti lo sanno è un istituto dove diciamo si studia sia il diritto sia l'economia e ho detto una cazzata perché diciamo non so che cosa dire perché il video dura comunque abbastanza io e ragione non siamo abituati a commentare quindi diciamo stiamo allargando il discorso dicendo cazzate su altri quindi passa la parola a price prima di impappinarci dire ognuno di voi qual è il vostro cod preferito su quale cod vi siete trovati meglio ecco quale cod avete fatto più gameplay e lascio la parola a rise sito biraxi chi vuole iniziare prego allora il cod che mi trovo meglio è backup 1 anche stato perché è stato il primo cod dove iniziare a giocare appunto alla saga di call of duty me l'ha fatto conoscere un mio amico diciamo che l'avevo comprato principalmente per zombie ho appena scoperto molte a la fine era una pippa come tutti all'inizio però dopo ho iniziato a giocare mi sono divertito sempre di più sotto con i gruppi da sei in demolizione e niente se posso aprire la biraxi allora il mio cod preferito diciamo come gabriel è stato il è stato il famoso black ops 1 però non è stato il mio primo cod perché il mio primo cod è stato mode warfare 2 e mi ricordo che il giorno che ho fatto la mia prima nucleare con il lancia granata che camperavo in una casetta su scrapyard è stato qualcosa di bellissimo perché cioè diciamo mi sentivo un pro possiamo dire e mi è piaciuto molto black ops 1 perché diciamo era un gioco che era diverso dagli altri perché tuttora secondo me è un gioco che veramente devi essere bravo per saperci giocare non è un gioco dove ci stanno tipo le serie di morti cose che purtroppo su cod vengono rovinate per queste cose e niente ok possiamo dire intendo quale prossimo gameplay combinato pro avrete visto che la vostra studietà sta nei gameplay combinati allora diciamo che stiamo provando a fare qualche gameplay un pochettino strano sempre insieme e come detto tu stiamo provando a fare una combinata però farla in modo diverso ad esempio chi cambia l'arma ogni kill chi cambia la sensibilità ogni kill oppure facendo qualcosa che non si è mai visto che ne so idee che vengono così a caso comunque abbiamo gameplay che forse si sono visti veramente pochissime volte su youtube anzi forse mai perché abbiamo anche qualche record da portarvi quindi niente lascio la parola a Rises ehm principalmente diciamo che le combinate ne abbiamo alcune però non sono proprio il nostro principale gameplay personalmente credo di provare a fare qualche altra dna di coltello qualche tripla e ho un'idea che ci abbiamo in mente è fare una combinata l'auto 2 di pistolino oppure l'auto 2 di di cecchino poi vediamo se ci riesce perché se ci riesce per il mio sarà un gameplay assurdo vabbè se vabbè continuo vabbè se qualcuno vuole con se vuole diciamo consigliare come farla tipo scrive nei commenti tipo Rises la fa così e che B-Rex la fa così è meglio che almeno abbiamo più idee a disposizione ok perfetto possiamo dire che l'introducing sta giungendo al termine vi ricordo di lasciare un mi piace vi lasciare un commento se le nostre nuove recluter vi sono piaciute un saluto da Price e un saluto da B-Rex e da Rises bella bella grazie a tutti